FOTOGRAPHUS PAESAGISTICUS CUCCODITI Non è andata male oggi proprio Ma no dai Faccia vedere un'anteprima per gli youtubari Della sua post produzione in Reflex Eh no cazzo è vero non posso mai essere alla verticale Però ci stiamo specchiando Ah si vede un cazzo Ah faccia vedere No 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 Aspetta Ecco guardate Questo potrebbe essere Adesso schietto una cosa Alba Ci diamo un 5 e mezzo C'erano un po' di nuvolette Ma il sole è sorto tardino Il signor Ramoschi che l'abbiamo ritrovato Eccolo la sempre disperso Un po' di nuvolette Le sue cose E basta Adesso andiamo a farci anche una bella colazione Un urpo Le salsicce di ieri c'era però ci sentono ancora tutte qua Saluta A presto A presto